Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, vi do ufficialmente a nome di KN Italy il benvenuto a questo webinar. Prima di iniziare ad entrarci nel merito dei contenuti volevo darvi una presentazione e un contesto di questo webinar. L'evento di questa mattina vuole essere una presentazione, un'anticipazione di una serie di contenuti che andremo ad approfondire all'interno della prossima edizione di due nostri eventi che avverranno nella stessa giornata. In data 19 febbraio infatti avremo un evento dedicato alle nuove forme di mobilità e la nuova edizione di Procurement Forum, l'evento dedicato a tutto il mondo di tutti gli acquisti. La scelta di posizionare questo webinar di questa giornata è per poter parlare di una tematica transversale che è quella della negoziazione. Un tema che diventa fortemente importante nella relazione con i nostri clienti, nella relazione con tutta la nostra compitenza interna. Diventa quindi importante per tutte le persone che si trovano a gestire team e a relazionarsi con i supplier esterni avere le chiavi strategiche di una corretta gestione della comunicazione negoziale. A condurre questo momento di approfondimento tematico abbiamo identificato un formatore, un esperto di negoziazione commerciale che si chiama Luigi Di Genoa. Quindi prima di iniziare questo contenuto lascerò a lui la parola in modo da potersi presentare, poter raccontare di cosa si occupa e quindi come ha avuto modo di poter approfondire questo tema all'interno della sua esperienza. Come vedo molti di voi stanno già utilizzando la chat come elemento diciamo di interazione. Quindi adesso verifichiamo anche l'audio. L'abbiamo segnalato ecco alla nostra assistenza tecnica così da migliorare il tutto. Io resterò a vostra disposizione, quindi non vi rubo un po' ulteriore tempo e passo ufficialmente la parola ai nostri decenni di questa giornata e vi invito ovviamente a utilizzare la chat per ogni elemento di richiesta. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto chiederei subito un feedback a tutti, ovviamente dopo aver dato il benvenuto, in merito all'audio. Non vorrei che vi perdeste indicazioni o comunque riflessioni che possono essere importanti per voi e ovviamente per la buona riuscita di questo webinar. Quindi chiedo a chi segnalava, vedo Stefano piuttosto che ad altre persone, se l'audio, ok, perfetto. Vedo che l'audio è perfetto. Perfetto, grazie a tutti. Allora, grazie, grazie per l'anticipazione. Io sono Luigi di Genua, come vi dicevo, io lavoro e vengo da un passato nel mondo del retail, prima direttamente come dipendente, quindi parlo di MediaWorld, Saturn, Carrefour e computer discount e negli ultimi 15 anni ho sviluppato invece le mie competenze nel mondo del retail in generale e non solo, anche il mondo dell'industria, attraverso progetti di comunicazione e di negoziazione, di coaching e quindi il mio ruolo è passato ad aiutare e supportare tutti quegli elementi che nel mondo del retail e nel mondo dell'industria hanno a che fare con questo grande mondo, grande sfera della comunicazione e della relazione. Ed è il motivo per cui sono stato chiamato appunto a partecipare a questo momento proprio per condividere con voi quello che è uno dei campi dell'applicazione, della comunicazione e della relazione che è appunto la negoziazione. Iniziamo così, iniziamo con quello che è l'obiettivo, quindi il focus di questo evento che ci porterà a Cmove, che è l'evento del quale si parlava il 19 febbraio, dove ci saranno, dove mi troverò a facilitare due momenti dove appunto il tema principale sarà quello che vi ho appena presentato. Di cosa vi parlerò oggi? Quali saranno gli elementi sui quali ho puntato la mia attenzione per sollecitarvi? Scusate, vedo ancora che l'audio è saltellante, quindi spero che la cosa si possa risolvere per evitare problemi. Quindi vedete, ho condiviso con voi quella che è l'agenda, quindi parleremo di elementi che nella mia esperienza risultano e sono risultati fondamentali nella negoziazione. Quindi parleremo del flusso di relazione, come vedete il primo punto, parleremo di comunicazione efficace, ovviamente quello che ritengo essere fondamentale nel contesto della negoziazione, parleremo dello stato emotivo e quindi del focus e infine una delle cose più importanti che è la consapevolezza della diversità tra gli elementi di una negoziazione, elementi ovviamente in termini di persone che partecipano. Nel frattempo chiedo all'assistenza tecnica se il problema è risolto, perché continuo a leggere messaggi dell'audio che salta prima di cominciare con la presentazione vera e propria. Allora, perfetto, audio ok. Qualche mese fa sono stato ad un evento del quale sono stato davvero molto, ma molto felice, l'evento parlo di quello che vedete in sottofondo nella slide che vi presento, che è la convention annuale delle risorse umane, dove vedete sotto il payoff era human to human, quindi risorse umane che parlano di valorizzare ulteriormente quello che è il rapporto tra esseri umani. Tra parentesi, cosa che non vi ho detto, io da ragazzo ho studiato economia e commercio, oggi mi sto laureando in psicologia e proprio qualche giorno fa, per aumentare la tensione di quello che è già la mia pressione lavorativa, ho appunto sostenuto l'esame di psicologia del lavoro. E vi devo dire che tra le righe di qualche pagina che studiavo, uno degli aspetti che mi ha davvero spinto ulteriormente verso quelli che sono i temi che vi presenterò, è una consapevolezza di un libro, un libro accademico, dove tutti noi pensiamo che risieda il sapere, anche se a volte spingiamo quelle critiche di un sapere magari un po' distante da quella che è l'attualità, da quella che è il mondo delle aziende. Però pensate che con piacere ho letto che la psicologia del lavoro si sta spingendo verso la psicologia del benessere, quindi anche gli accademici stanno spingendo gli studenti a comprendere e entrare nelle aziende con un nuovo focus. Il focus non rivolto solo e unicamente a quello che purtroppo spinge tutte le aziende a lavorare, quindi purtroppo il risultato dell'ultima riga, ma il mezzo con il quale arrivare a questo scopo che è appunto il benessere. Come vedete nella slide riporto quella che è un'affermazione di una nota ricercatrice, lei è una professoressa di ricerca negli Stati Uniti, la leggo perché davvero ritengo che sia molto importante, siamo biologicamente, cognitivamente, fisicamente e spiritualmente nati per amare, la riporto in grande perché inizio a vederci poco, essere amati e sentire di appartenere ad un gruppo o un luogo, se tali esigenze non vengono soddisfatte, non funzioniamo come dovremmo, andiamo in pezzi, siamo paralizzati, soffriamo, facciamo del male agli altri, ci ammaliamo. Una nota, non vorrei aver presentato questa dottoressa in modo veloce, non è una speaker questa persona, è una ricercatrice, quindi queste frasi, queste parole non seguono una filosofia, seguono quelli che sono i risultati della ricerca e la ricerca che penso che tutti più o meno che siete appassionati a questi temi sapete che sto parlando delle neuroscienze. Comunque avremo il primo modo, verso la fine di questo webinar, di approfondire un tema che secondo me è molto importante per arrivare alla fine di questo discorso. Vado avanti, quindi qual è il primo aspetto per far sì che una relazione abbia... Allora, aspetta, vedo qualche messaggio ancora dell'audio. Scusatemi solo qualche secondo. Ok, perfetto. Allora, dovrebbe essere a posto. Allora, proseguo. Qual è l'aspetto base, qual è l'aspetto fondamentale della negoziazione? La negoziazione esiste, può svilupparsi, può essere efficace se esiste una relazione tra le parti. Innanzitutto, cosa intendiamo per relazione? Relazione, anche questo è un termine che ci portiamo dietro dalla nostra storia, relazio, relazio deriva da quella che è stata una necessità che arriva sin dai tempi di Roma, dove quando sono state tracciate i confini di quella che poi oggi è la nostra città, la nostra capitale, conosciuta in tutto il mondo, venivano lasciati degli spazi per creare ovviamente delle porte. E quindi da qui questa definizione. relazione è creare una porta, creare una porta ovviamente con qualcun altro, con se stessi da prima, ovviamente con gli altri, con il mondo che ci circonda. Ma vado oltre, perché? Perché una metafora che normalmente colpisce molto e arriva in modo molto veloce per portare questo significato, quindi quello di relazione, è quella della metafora della condivisione di una pianta. Quindi ascoltatemi solo qualche secondo, accompagnatemi in questo piccolo esempio. Provate a pensare a quella che voi ritenete essere una relazione, più o meno importante, che avete in campo personale o in campo professionale. Questa relazione, provate a pensare a relazioni che avete, che sono relazioni di successo, ma anche relazioni che potrebbero essere finite, e magari neanche con delle buone modalità. E proviamo a paragonare, quindi utilizziamo questa metafora della pianta. Quindi provate a immaginarvi, con questa persona con la quale avete avuto questa relazione, e provate a immaginare di condividere, di aver condiviso con questa persona una pianta. Questa pianta, penso che in una metafora reale, come tutti possiamo sapere, è un essere vivente che ha bisogno dell'attenzione delle due persone che condividono la cura di questa pianta. Quindi se io, con voi, con uno di voi, condividiamo questa relazione, questa pianta vivrà, se io mi currerò di questa pianta, se voi vi correrete di questa pianta, o ovviamente se insieme ci correremo di questa pianta. Provate a pensare quando una delle due parti, per un motivo più o meno plausibile, inizia a non curarsi di questa pianta. Quindi la responsabilità della cura della pianta passerà all'altra parte. E se l'altra parte smettesse per qualche motivo di curarsi di questa pianta, cosa accadrebbe alla pianta? Penso che la conclusione sia piuttosto ovvia, la relazione soffre della stessa modalità. Quindi per fare in modo che una relazione abbia motivo e abbia le condizioni per crescere e ovviamente diventare sempre più prospera, ha necessità della cura delle persone che sono legate da questa relazione. Se una delle due interrompe questa cura, la responsabilità passerà solo ad una delle due, che se per caso dovesse smettere, la relazione ovviamente cessa. Proprio in funzione di questo, volevo presentarvi quindi quello che è un modello, un modello che condivido con quello che è uno dei miei ruoli nel mondo professionale, che è quello del coaching. Nella relazione si dice che ci devono essere, come vedete, questi cinque elementi. Quindi nella relazione ci deve essere assolutamente positività. non possiamo metterci, calarci in una relazione, quindi in una negoziazione, se non abbiamo positività in merito a quello che è l'esecuzione, il processo della negoziazione. Quindi questa è la primissima condizione. La seconda, dobbiamo stare molto attenti alla comunicazione e tra poco vedremo quelli che sono gli elementi della comunicazione che intendo essere importanti. Terzo, dobbiamo mettere in campo qualche cosa, dobbiamo dare qualche cosa a questa relazione, quindi dobbiamo essere degli erogatori di energia, di qualsiasi tipo, poi a seconda di quella che sarà la negoziazione in campo, ma di energia si deve parlare. Quattro, ci deve essere una realtà comune, un campo da condividere con la persona che scende nella relazione con noi, quindi con la quale abbiamo in essere la nostra negoziazione. Cinque, amore è una traduzione, è una traduzione di love. Love negli Stati Uniti, e quindi in inglese, non vuol dire l'amore che intendiamo tra persone che si vogliono bene, ma vuol dire condivisione, condividere qualche cosa, avere comunque un elemento che va oltre quello che è la strumentalità, da condividere, da mettere nella relazione. Spero che sia tutto chiaro, perché a questo punto arriviamo a come gestire questa relazione. Innanzitutto è fondamentale avere un presupposto, e conoscere un presupposto, che in una negoziazione, in quanto esempio di relazione, dobbiamo sempre tenere conto che non esistono persone che non hanno risorse da inserire, quindi da condividere in questa relazione. Vi faccio qui l'esempio di un momento triste per molte persone che amano il calcio, ma che amano la nostra nazionale. Questo è un rigore che vede la nostra nazionale in finale contro il Brasile, dove Baggio, penso che vediate quella palla che prende non solo il volo, ma evita quindi totalmente quella che la porta. Baggio è conosciuto come un calciatore, forse uno dei più talentuosi della nostra storia calcistica, ed era famoso, anche se purtroppo non abbiamo testimonianze come YouTube, per scommettere con i suoi compagni di squadra di riuscire a prendere nel 100% dei casi, si parla di 10 volte su 10, delle monetine che venivano prese, grazie, faccio i complimenti per la precisazione, era il 94 con il Brasile, esatto, la data di nascita di mio figlio, quindi era famoso per prendere queste monetine, i 10 monetini su 10 venivano prese da Baggio quando tirava i calci di rigore all'interno della porta. Come sapete, quell'anno, il 94, Baggio non solo sbagliò il rigore, ma non colpì neanche la superficie della rete, quindi andò totalmente fuori. E la domanda è, secondo voi ritenete che Baggio non avesse avuto le risorse per tirare quella palla all'interno della porta? È ovvio che la risposta è che Baggio aveva tutte le risorse, il problema qual era? Che era in uno stato d'animo privo di risorse, tant'è vero che proprio l'estate scorsa Baggio è stato intervistato in merito a quel momento e Baggio dichiarò che nel momento in cui stava calciando iniziò a pensare e se sbaglio mi ammazzo e poi sappiamo cos'è successo e non si è neanche ammazzato per fortuna. Quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare a questa affermazione, un'affermazione famosa, un'affermazione famosa soprattutto in quello che è un altro mio campo nel quale sono appassionato e lavoro, che è quello della programmazione neurolinguistica, dove questa frase è la base di tutto. Quando cambi come pensi, cambia quello che senti e di conseguenza cambia ciò che puoi fare. Baggio appunto è stato testimonianza di quello che sto dicendo. Cosa voglio dire? Voglio dire che e qui atterro ad un concetto che è importante, vi faccio l'esempio di due emozioni che conosciamo, tra parentesi due personaggi che abbiamo visto nel cartone di Inside Out, che penso che molti di noi abbiamo visto, sapete, in questi cartoni mati c'era questa bimba che sembrava quasi manovrata da questi piccoli esserini che appunto erano le emozioni. Volevo farvi l'esempio della rabbia e della felicità, della gioia. La rabbia è stata, la nostra biologia e quindi la fisiologia ha visto che quando noi proviamo rabbia, le nostre gandole surrenali, tra le altre cose, producono adrenalina e cortisolo. Dall'altra parte, invece, quando siamo felici, produciamo, sempre tra le altre cose, endorfina, dopamina e serotonina. Quindi, questo tipo di risposta, che è una risposta biologica, quindi non dobbiamo essere più o meno d'accordo, è così, il nostro corpo funziona in questo modo, ci spinge a dire, ma quindi, se lo stato d'animo è biochimica, quindi, se la rabbia e la felicità, la gioia, sono biochimica, quindi allora, non ci sono eventi esterni che la determinano, o meglio dire, non ci sono persone che sono in grado di muovere le leve della nostra rabbia e della nostra gioia, ma siamo noi che reagendo a degli eventi esterni, facciamo in modo, purtroppo, di attivare quelle che sono le, diciamo, questa, vengono detti, sono, diciamo, degli ormoni, ma anche dei neurotrasmettitori, dei neurotrasmettitori, che portano ovviamente questo tipo di risultato poi nel nostro corpo. Perché voglio arrivare qua? Perché molti di noi ritengono che una giornata sbagliata in una negoziazione, un'affermazione sbagliata da parte del nostro interlocutore, sia una sorta di causa-effetto, quindi, mi presento, entro in una negoziazione, vengo inizialmente trattato male, ecco, basta, la negoziazione andrà male, piuttosto che ricevo il primo no, ok, questo è un segnale che la negoziazione non andrà, piuttosto che tutti quegli eventi che caratterizzano queste situazioni che ben conosciamo. Purtroppo non funziona così, non funziona così, tra parentesi, abbiamo questo incredibile psicologo che ha vissuto parecchi anni nei lager nazisti, che una persona di questo tipo è riuscito ad essere così tanto consapevole, l'abilità di scelta è lo spazio tra la causa e l'effetto, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi, tra la causa ed effetto, abbiamo comunque una reazione e questa reazione ci porta alla scelta. Mi spiego. Vedete, questa è una slide che riporta quello che è un ciclo virtuoso o vizioso di quello che abbiamo appena detto. Vi faccio un esempio. Quindi succede qualche cosa in questa negoziazione. Quindi il mio atteggiamento di negoziatore interessato a questa negoziazione cambia. Cambia e inizio a pensare che non riuscirò ad ottenere quello che voglio, non riuscirò a prendere l'accordo, probabilmente adesso i miei capi quando tornerò mi massacreranno per quello che non sono riuscito a fare e in questo pensiero ovviamente il mio potenziale calerà perché purtroppo questa negatività mi porterà a delle azioni, azioni che non saranno quelle che la mia controparte gradirà e quindi il risultato come vedete in basso a destra sarà sicuramente un risultato pessimo. E quindi cosa accadrà? Che ogni volta che io avrò quel tipo di feedback da parte del mio interlocutore io, la mia memoria, il mio pensiero mi riporterà a quel risultato e quindi condizionerà nuovamente l'atteggiamento e quindi il potenziale, le azioni e il risultato. Quindi in questo ciclo vizioso io avrò conferma di quello che invece in modo differente sarebbe cambiato se il mio atteggiamento fosse stato totalmente positivo, ovviamente avrei avuto un potenziale maggiore delle azioni che mi avrebbero concesso di incassare un no ma di reagire in modo differenti con un risultato che sicuramente sarebbe stato positivo e quindi che avrebbe quindi portato questo ciclo e quindi la mia consapevolezza al fatto che un no non cambia nulla, un rifiuto non cambia nulla ma l'importante è riuscire a gestire il proprio stato d'animo facendo in modo che l'atteggiamento non sia l'atteggiamento che porta ovviamente ad quello che è un potenziale minimo azioni pessime e quindi il risultato correlato. Quindi come si fa? Ci sono diversi elementi che oggi potremmo trattare dal tratto 1 per fare in modo che sia diciamo arrivi il messaggio come d'agenda vi parlavo del focus noi abbiamo il nostro cervello che seppur pensiamo di conoscerlo negli ultimi anni e quasi quotidianamente stiamo ricevendo degli insight che sono pazzeschi questo è quello che volevo correlare al webinar di oggi ed è il funzionamento del cosiddetto SAR questo sistema attivante reticolare che vedete questa parte del nostro cervello funziona un po' come se fosse uno zoom uno zoom di una macchina fotografica o del nostro smartphone che ormai è sostituito la macchina fotografica e quindi cosa succede? succede che è in grado di mettere a fuoco un aspetto un aspetto della nostra vita un aspetto della situazione che viviamo un no potrebbe essere il focus di una mente che purtroppo non è virtuosa come si fa a fare in modo che questo passaggio vada oltre? qui vi ho messo alcuni spunti vedete il perché quando io mi chiedo perché perché mi ha detto no quello è mettere il focus su quello che è un problema quindi impariamo a scartare questa domanda in questo caso quindi passiamo al come posso fare ora che mi ha detto il no quali sono le alternative cosa posso fare ora che ho preso il no per superare questo ostacolo nella vita di tutti i giorni esempi che portano questo tipo di valore quindi questa modalità di usare il focus in modo virtuoso come vedete è come posso rendere speciale questa giornata quindi non chiedermi il perché la giornata è iniziata male ok è iniziata male come posso renderla ora speciale questa giornata come posso rendermi utile oggi qual è la qualità che posso sviluppare dopo questa situazione dopo aver preso il no dopo una negoziazione che non è andata come devo invece di chiedermi perché è andata così proviamo a porci la domanda utilizzando il focus in una maniera virtuosa qual è la qualità che posso sviluppare dopo questa situazione qual è la risposta migliore a questa situazione quindi una volta che ho portato il mio focus verso diciamo questi virtuosismi devo fare attenzione ad una cosa la comunicazione efficace ha un suo schema ed è uno schema che nel coaching definiamo ciclo e come tutti i cicli la comunicazione ha un inizio e per inizio intendo quando inizio quando voi iniziate a parlare quando iniziate una negoziazione l'inizio di questa negoziazione è il momento migliore per iniziarla avete preso in considerazione quelle che sono tutte le risorse utili per affrontare questa negoziazione avete ipotizzato e quindi avete preso in considerazione quelli che possono essere gli ostacoli che dovrete affrontare in questa negoziazione questo è valutare l'inizio il momento giusto per aprire un ciclo ovviamente la maggior parte di noi si concentra piuttosto che sull'inizio sullo sviluppo di un ciclo e quindi molto spesso inizia una negoziazione nella modalità sbagliata senza risorse senza aver pianificato né l'andamento né tantomeno gli ostacoli ma cosa importante poi è prevederne la fine quindi so dove voglio arrivare in quella negoziazione o ci entro a caso va bene qualsiasi cosa non pianifico quella che è l'obiettivo della mia negoziazione questo vuol dire avere in mente il processo corretto della comunicazione in modo efficace prevederne all'inizio conoscere quello che sarà lo sviluppo e sicuramente avere molto bene in mente quella che sarà la fine o comunque le opzioni di fine di questo ciclo e questa slide rappresenta poi quello che è quello che ci siamo detti quindi la qualità del risultato dipenderà dall'inizio perché è ovvio che se avrò preso in considerazione tutti gli elementi che vi ho detto la qualità sicuramente sarà maggiore e l'effetto dei risultati ovviamente dipenderà dalla fine quindi da quelle che erano le mie aspettative perché altrimenti andrà sempre male perché non avevo pianificato quale sarebbe stata la fine o va bene qualsiasi cosa perché tanto non avevo pianificato la mia fine e quindi va bene qualsiasi cosa portando quella che è una negoziazione davvero in modo molto molto inefficace vado oltre volevo lasciarvi questo concetto anche questo è un altro concetto molto importante e molto conosciuto nella programmazione neurolinguistica che prende le origini da Magritte Magritte era un artista belga che ha vissuto praticamente tutta la sua ultima parte della vita a Parigi un artista che produce questo quadro un quadro dove insieme a questa opera che comunque è conosciuta da molti ma la domanda importante che poi ha portato tutto un movimento a una serie di considerazioni è stato questa non è una pipa e che cos'è se non è una pipa? penso che chi di voi non conosce questo concetto legato alla programmazione neurolinguistica oggi potrebbe ipotizzare sbizzarrendosi con la propria creatività ma questa non l'artista non voleva un'altra interpretazione della sua figura ma voleva semplicemente portarci alla considerazione che poi ha seguito questo movimento e che cosa ci dice? che una rappresentazione della realtà non è la realtà che rappresenta quindi quel quadro è il quadro di una pipa non è una pipa perché vi dico questo? vi dico questo perché molti di noi seguendo quelle che sono quelle scorciatoie che la psicologia ha individuato come le euristiche cosa sono le euristiche? fate conto che noi abbiamo qualche miliardo di cellule neuronali nel nostro cervello che a loro volta hanno circa 10-15 mila collegamenti tra di loro ognuna di loro verso le altre quindi fate conto che ci sono molti ponti tra le nostre cellule neuronali però qual è il problema? che il nostro cervello arriva da un'evoluzione di si parla di 500 milioni di anni e purtroppo o per fortuna essendo una macchina perfetta ed essendo il nostro cervello l'organo che consuma dal 20 al 25% dell'ossigeno dei glucidi in base a quello che prendiamo in considerazione di tutto il nostro organismo questa macchina perfetta cosa ha fatto? ha fatto in modo di permettere un funzionamento spendendo il meno possibile quindi tornando a questi ponti delle nostre cellule neuronali abbiamo imparato a non usare sempre ponti nuovi a non costruire ponti nuovi usiamo sempre gli stessi e quindi facciamo sempre gli stessi ragionamenti quindi ci torna molto utile far sì che la mappa nostra quindi il nostro modo di vedere la vita il nostro modo di vedere una negoziazione il nostro modo di vedere l'obiettivo di quella negoziazione per semplicità diventa il modo in cui prevediamo preveniamo e ci rendiamo la vita facile che sia anche il modo di vedere quel concetto scusatemi l'oggetto della negoziazione da parte del nostro interlocutore cosa ha fatto la programmazione neurolinguistica? ha evidenziato che la prima cosa che occorre fare nel contesto della comunicazione e ovviamente nel contesto di una negoziazione è prima di muoversi prima di rischiare di vanificare quella che è una comunicazione scoprire quella che è la mappa quindi il punto di vista di quell'oggetto in comune del nostro diciamo della persona con la quale condividiamo la relazione termino così voglio condividere con voi quello che è uno dei tanti modelli io preferisco questo e utilizzo questo e credetemi ritengo che sia uno dei modelli che risulta molto più efficace per quello che noi facciamo parlo di un modello di un'azienda americana si chiama Emergenetics che però fonda il proprio modello sugli studi del primo lo vedete Roger Sperry del primo Nobel della medicina legato alle scoperte sul cervello cosa ha scoperto Roger Sperry ha scoperto che il nostro cervello costituito da due zone differenti la destra la sinistra penso che molti di noi ne abbiano sentito parlare ha dimostrato che queste zone sono collegate attraverso il corpo calloso e vi metto qui l'esempio dove vi faccio vedere che l'emisfero sinistro l'emisfero destro sono luoghi dove risiedono componenti differenti ma utili contemporaneamente per sviluppare il linguaggio come vedete quindi lui cosa ha fatto? ha dimostrato che il corpo calloso è una sorta di ponte tra i due emisferi per fare in modo che non funzionano in modo indipendente ma funzionano insieme contemporaneamente soprattutto come quando per il linguaggio c'è necessità di questa collaborazione perché vi dico questo? vi dico questo perché questo modello ci porta a interpretare vedete questo cerchio diviso tra giallo e rosso e blu e verde come ragione il nostro cervello questo che vedete sono le sette dimensioni che quando noi ci relazioniamo con una persona anche nel contesto di una negoziazione dovremmo imparare ad allenarci a fare caso perché? perché molte persone hanno parlo adesso della parte quella circolare quindi quella con i colori che vi ho appena detto giallo, rosso, verde e blu non si vede la slide allora vi date conferma se invece si vede vedo che ha le standard ok perfetto allora cosa voglio comunicarvi con questa slide quindi vi dicevo nella parte del cerchio quindi questa quella gialla, rossa, verde e blu cosa dice questo modello che appunto parte da questi studi del primo premio Nobel della medicina in merito alla psicologia dice che la maggior parte di noi ha queste quattro dimensioni cognitive quindi come ragiona e quindi sta a noi quando entriamo in una relazione cercare di capire se la persona è una persona che utilizza più la parte concettuale e quindi più la parte sociale piuttosto che più la parte analitica e la parte strutturale ovviamente questo modello ha un suo test che può essere erogato e quindi consiglio a chi ha la possibilità di farlo personalmente ma poi l'esercizio sta nel capire senza poter fare un test ovviamente alla nostra controparte in una negoziazione ma questa sarà una persona che sta ragionando un po' di più sui termini sociali e relazionali quindi una di quelle persone che quando entro in una negoziazione dà valore a me come persona a lui come persona oppure una persona molto analitica perché capite che in una negoziazione se io non valuto le differenze che ci sono a livello cognitivo delle persone rischio di mettermi a raccontare della partita di calcio o di quello che ho fatto la giornata prima ad una persona analitica la quale non frega assolutamente niente ma interessa quello che lui potrebbe avere da quella negoziazione e viceversa magari fare la stessa cosa essere molto analitici quindi raccontare i dettagli della negoziazione ad una persona che invece interessa di più la relazione con me questo per quanto riguarda gli elementi cognitivi che sono anche abbastanza complessi tra le altre cose ma quello che diventa molto evidente di questo modello invece è capire gli elementi comportamentali quindi vedete le tre dimensioni che trovate su queste barre viola che sono il guscio di ognuno di noi quello che tutti vediamo degli altri e quindi vedete essere tre elementi quindi l'espressività l'assertività e la flessibilità cosa intendo intendo qui ci sono dei libri che poi per chi di voi è interessato può consultare torno però a quello che stavo dicendo l'espressività per espressività si intende come leggete la manifestazione delle emozioni agli altri e al mondo in generale cosa vuol dire vuol dire che quando avete nel contesto di una negoziazione una persona che parla poco che vi ascolta che sembra molto chiusa su se stessa questa è una persona che molto probabilmente in questa barra che noi definiamo essere percentile risulta in una avere un percentile basso di espressività quindi vuol dire che è una persona che utilizza poca energia nell'espressività ma la raccomandazione è quando avete di fronte una persona che ha quindi questo tipo di energia quindi rientra nella prima parte di questa barra non vuol dire che non ha pensieri e non ha emozioni verso quello che state dicendo la cosa importante è semplicemente che la sta dimostrando a voi in modo pacato non facciamo questo errore come non facciamo l'errore ovviamente di pensare che ci sono persone che non sono assertive o lo sono tanto quindi parlo dello stile ritmo usati piuttosto che sono o non sono flessibili quindi queste sono tre energie espressività assertività flessività che ognuno di noi ha ma solo che espone in modo differente quindi nel contesto di una negoziazione non facciamo l'errore di giudicare quindi di non leggere quella che è la mappa del nostro del nostro interlocutore teniamo conto che ognuno di noi ha anche in questo contesto queste sette dimensioni può essere che le esprima nel modo più o meno efficace scusate più o meno palese nel contesto ovviamente della nostra relazione termino così poi do spazio alle vostre domande i nostri pensieri fanno di noi quel che siamo cambiamo i nostri pensieri cambiando i nostri pensieri cambia quello che sentiamo quindi possiamo cambiare la nostra vita in questo caso la nostra negoziazione io ringrazio tutti e ovviamente adesso do a voi lo spazio per quelle che sono le vostre domande grazie a tutti per l'attenzione vedo che qualcuno di voi sta scrivendo quindi attendo quella che è la domanda o comunque le considerazioni che per voi risultano importanti in merito ai temi che ovviamente abbiamo sviluppato in poco più di 30 minuti quindi diciamo che mi sono fermato a quella che è diciamo la parte più importante di questo tema che poi ovviamente vi aspetto e vi aspettiamo il 19 febbraio proprio per vedere e poter condividere quelli che sono degli approfondimenti su questi temi allora molte volte si pensa che la situazione win to win sia la migliore esatto però vedo che il pensiero non è finito capite poi nel frattempo che scrive diciamo la persona che sta scrivendo questa il signor la signora De Palma il win to win che cos'è? il win to win è semplicemente quello che quello che parlavamo prima essere diciamo la la considerazione delle delle mappe quindi quando io conosco la mia mappa quindi conosco il mio punto di vista su quello che è l'oggetto della negoziazione e mi chiedo quella che è la mappa del mio interlocutore quindi riesco a scoprire con delle domande ovviamente quella che è la mappa del mio interlocutore questo è il win to win quindi il fatto di capire quelli che sono i miei obiettivi aver compreso quelli che sono gli obiettivi del mio interlocutore e questa è la logica del win to win ma il bene aziendale dice il signor o la signora De Palma non sempre passa da questa situazione quindi mi rendo conto che è una chat però posso avere qualche elemento in più cosa si intende per il bene aziendale? ovviamente invito a tutti nel continuare a fare domande quindi quello che vi può tornare utile nel frattempo leggo la domanda di Giovanni di Sion che mi chiede quindi penso che la negoziazione sia la base di ogni trattativa commerciale e lo stato d'animo delle persone a volte condiziona positivamente o negativamente la trattativa Giovanni sono perfettamente d'accordo ed è il motivo per cui ho iniziato questo discorso con questo concetto che credimi molto spesso non viene neanche preso in considerazione possiamo parlare di comunicazione efficace possiamo parlare entrando nella comunicazione efficace delle parole da utilizzare diciamo di quelli che possono essere i trucchetti del mestiere ma se non partiamo non entriamo in una negoziazione con lo stato d'animo e quindi con l'atteggiamento corretto tutti questi trucchi o regole non serviranno assolutamente a nulla sono d'accordo con te grazie per il contributo intanto aspetto volevo capire che cosa si intende per il bene aziendale non sempre passa perché capite il win-win è sicuramente un obiettivo ed è una lettura e considerazione delle mappe poi sapete il bene aziendale purtroppo va sempre rispettato ma il win-win che cos'è il win-win il win-win non vuole sempre dire che si esce da una negoziazione con entrambi dopo aver ottenuto entrambi il massimo da quella negoziazione il win-win può anche essere l'essere stato rispettato l'essere stato capito aver fatto un accordo che oggi consente a me un'uscita in un certo modo e domani un'uscita in un altro modo alla mia controparte win-win vuol dire molto e bene aziendale ovviamente vuol dire molto esatto quindi perfetto Giorgio invece mi chiede mi dice grazie Luigi presentarsi ad una negoziazione con la previsione preordinata di un risultato può essere d'aiuto o è un limite ovviamente Giorgio ti dico dipende dipende perché dipende da quello che tu sai della controparte se questa è una parte per esempio analitica ricordate la parte quella sinistra di quel cerchio quindi quella blu e quella verde quindi se io ho di fronte una persona che ama il dettaglio ama l'analisi arrivare con già una previsione preordinata di un risultato direi che è ottimo se invece ho di fronte una persona che invece è abituato ad utilizzare i propri aspetti cognitivi sulla fantasia la novità pensare così al di fuori delle righe e basare la negoziazione sulla relazione tu gli stai rovinando il gioco quindi direi evita una cosa di questo tipo vado oltre win win e anche trovare il giusto compromesso esatto che non sempre il massimo perfetto Alessandra sono assolutamente d'accordo è quello che dicevo prima perfetto Bertino mi dice solitamente cerco di condurre la trattativa in modo anche personale quindi ovvero cercando prima un argomento esterno e poi si parte con la trattativa lavorativa esatto Bertino questo va bene come dicevo prima all'altro partecipante tieni conto che devi leggere prima la mappa dell'interlocutore della negoziazione quindi capire se anche dall'altra parte ci sia questo tipo di piacere perché appunto poi tu aggiungi a volte non si riesce però a trovare alcun argomento esatto appunto quello che stiamo dicendo e spesso la negoziazione non va a buon fine bravo perché? perché hai scoperto in quel modo però poco consapevole che dall'altra parte c'era una persona che probabilmente aveva delle esigenze che tu non sei stato in grado di leggere quindi sai molto spesso iniziare una negoziazione con delle domande anche quelle che potrebbero sembrare un po' più particolari del tipo perfetto caro Mario Rossi come che preferenza hai che piacere hai come vorresti cominciare questa nostra negoziazione quindi una domanda proprio il più possibile ampia potresti da una parte sentirti rispondere andiamo a averci un caffè dall'altra parte potresti rispondere cosa hai fatto ieri nel tempo libero e dall'altra parte invece è dove vuoi arrivare mi presenti la dimostrazione dei dati nello specifico di quello che è il tuo obiettivo per questa negoziazione in base a questa risposta tu sai come dovrai continuare quindi qual sarà il mood diciamolo così di questa negoziazione quindi l'errore dici sta nel mio approccio quindi non so se mi sono spiegato ti sei spiegato perfettamente spero di averti risposto se in caso contrario ovviamente scrivi sempre nella chat invece Giovanni dice conoscere ogni dettaglio del fornitore è una cosa molto importante certo con un aspetto però il dettaglio del fornitore è una cosa chi interpreta chi rappresenta il fornitore è un'altra se hai di fronte una persona che è molto più concettuale quindi una persona molto più si dice divergente quindi una persona che non ama gli schemi seppur tu conosci tutto quello che sono i dettagli di questa di quel fornitore con quella persona non ti convene utilizzarli in quel modo perlomeno devi cercare di dare spazio alla creatività alla voglia di novità alla voglia di pensare out of the box di questa persona ma non devi per forza presentare leggere schematizzare tutti quelli che sono i dettagli certo Bertino dice tutto chiaro grazie perfetto grazie a te Bertino del feedback vedo che qualcun altro sta chiedendo sta digitando quindi attendo ancora qualche minuto prima di chiudere perfetto allora sono punti di forza mi chiede Giovanni sono punti di forza che ti potrebbero essere utili nella trattativa finale esatto grazie perfetto grazie mille De Palma Arxon grazie arrivederci perfetto grazie molte vedo che c'è ancora qualcuno che sta digitando e quindi altrimenti chiedo agli altri partecipanti quale può essere altri punti sui quali abbiate voglia di diciamo di approfondire i temi che abbiamo di quali abbiamo condiviso vedo sempre dei ringraziamenti cos'altro posso fare per aiutarvi nella negoziazione vedete questo è un modo per leggere la vostra mappa senza dare nulla per 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 dare per scontato allora Fabrizio mi chiede come ci si può allenare esatto questa è assolutamente una buona domanda quindi il primo allenamento che vi porto verso il quale vi invito è fate voi uno di questi test quindi io vi ho portato diciamo all'evidenza quello di Emergenetics perché ovviamente è quello che conosco meglio e quello che penso che sia il meglio per quello che è il mio lavoro ma il primo consiglio è fate un test cercate di capire quali sono le logiche quali sono gli sviluppi quali sono le modalità per facilitarvi nel leggere questi comportamenti perché quando farete un test capirete sarete consapevoli di cosa vuol dire essere concettuale cosa vuol dire essere analitico eccetera eccetera quando lo vedrete su di voi l'allenamento sarà sicuramente più semplice e vi porterò e vi inviterò quindi a cercare di capire negli altri quelli che sono i comportamenti che invece leggevate su di voi e quindi capire questa persona è come me o è diversa da me e quindi proseguire nell'allenamento sono stato chiaro Fabrizio può essere uno spunto anche se Fano ringrazia quindi grazie ovviamente prima di evitare che ci sia ovviamente diciamo la fuoriuscita da questo webinar sono io che ringrazio sia a nome diciamo dell'organizzazione sia a nome mia per tutto quello che è stata ovviamente la vostra attenzione però leggo ancora una domanda bene sono contento arrivare all'incontro con il fornitore preparato scouting se il fornitore è ovviamente nuovo piuttosto che evidenza del fatturato piuttosto che in andamento nei vari anni per un fornitore consolidato è sicuramente necessario per partire bene secondo il mio punto di vista sono d'accordo con te per te quindi per te come partecipante alla negoziazione questa è una cosa importante e probabilmente sai perché è importante perché tu se facessi un'analisi su te stesso saresti una persona con delle caratteristiche cognitive che sono più analitiche più strutturali quindi tu hai una mappa che ti rapporta con nel contesto della negoziazione in una modalità analitica e strutturale quello che ti invito signor o signora è quello di non fare l'errore di quelle che vengono chiamate le euristiche nella psicologia non pensare che il tuo interlocutore la pensi come te o viva come te la relazione quindi la negoziazione scoprilo se è come te procedi e quindi condividi quelli che sono i dati che hai raccolto ok vedo altri ringraziamenti poi sono d'accordo da parte di Giovanni sono contento analisi del cliente analisi della concorrenza perfetto Stefano Fabrizio aggiunge credo che il valore aggiunto di oggi sia che la conoscenza tecnica le info economiche siano la base ma la differenza sia la psicologia della negoziazione esatto come sono io e com'è lui o lei Fabrizio è perfetto quindi la valorizzazione di quelle che sono le diversità tra noi e ovviamente il nostro interlocutore perfetto concordo con Stefano quindi Stefano dice analisi del cliente analisi della concorrenza perfetto io vi invito solo a non dare per scontato che il nostro interlocutore abbia la stessa diciamo nostra mappa quindi lo stesso nostro modo di pensare o lo stesso nostro modo di comportarci Alessandra perfetto è d'accordo con Stefano Giovanni concordo pure io perfetto quindi sono davvero molto molto contento Stefano sta scrivendo ancora capite quello che volevo trasmettervi è che se uno di noi ognuno di noi ha delle necessità è importante che queste necessità vengano assecondate non date per scontato che le stesse nostre necessità siano le necessità del nostro interlocutore questo è molto spesso il primo errore di una negoziazione che ovviamente non finisce come vorremmo ok un saluto perfetto grazie grazie se volete abbiamo ancora qualche minuto dopo di che possiamo salutarci un saluto anche da parte del signore della signora Gallino Bertino grazie mille perfetto grazie Luigi perfetto grazie a te è stato un piacere ok perfetto poi c'è un'altra considerazione molto interessante dove Fabrizio dice ricordiamoci la casetta degli attrezzi è fondamentale ma sono gli attori che fanno la recita esatto sono assolutamente d'accordo quindi vanno bene va bene prepararci va bene avere tutti i dati ma poi la differenza in una negoziazione la facciamo noi la facciamo con la nostra capacità di gestire la relazione di avere una comunicazione efficace come facevamo di metterci il giusto focus e di valorizzare le differenze come ci siamo detti io con questo ovviamente vi saluto il nostro tempo è finito quindi vi ringrazio molto e esatto Fabrizio dice se no basterebbe mandare un'offerta scritta infatti è perfettamente ragione io davvero rinnovo i miei ringraziamenti siete stati sicuramente molto attivi anzi vedo ancora Alessandra che sta digitando qualche cosa quindi voglio aspettarla perché il contributo potrebbe essere importante no perfetto ok quindi vi ringrazio ringrazio quindi dicevo al nome dell'organizzazione a nome mio vi aspetto il 19 febbraio a diciamo l'evento al si move è stato un piacere condividere con voi questi temi e esatto Alessandra dice si dice che il tono fa la musica pensa Alessandra che una ricerca di un team di psicologi ha scoperto che il 65% dei conflitti che nascono nelle aziende nascono a causa del tono della voce dal tono della comunicazione del tono in cui sono avvenuti queste relazioni quindi direi che il tono della musica è assolutamente una delle cose più importanti che Grazie a tutti